Oggi giorno è sempre più conveniente buttarsi nel lagone politico, al netto delle responsabilità connessa alla mandato amministrativo, ma che da quest'anno diventa senz'altro un po' più gratificante. Sindaci, vicesindaci, assessori e consiglieri comunali, in pratica gli amministratori dei comuni della provincia di Brindisi, dalla 2024 si vedranno aumentare il proprio stipendio, in forza dell'ultima legge di bilancio e in base al numero degli abitanti. Una vera e propria manna dal cielo, dunque. Partendo dal capoluogo adriatico, il primo cittadino percepisce un'indemità di quasi 10.000 euro mensili, stipendio più che raddoppiato rispetto al suo predecessore, che percepiva 4.500 euro. Circa 7.000 euro invece per il vicesindaco e quasi 6.000 per i componenti dell'aggiunta, compreso il presidente del Consiglio Comunale. I consiglieri comunali di Brindisi guadagneranno 1.500 euro al mese, ma il loro compenso è in gettoni di presenza e varia a seconda delle assise pubbliche. Nella provincia si va da un minimo di 16 euro a seduta ad un massimo di 32, sempre in base alla popolazione. I sindaci di Ostuni, Francavilla Fontana e Fasano guadagnano circa 5.000 euro, circa 3.000 i vicesindaci e poco più di 2.000 gli assessori. Percepiscono invece 4.000 euro i sindaci di Torre Santa Susanna, Cisternino, San Pietro Varnotico, Latiano, Oria, Carovigno, San Vito dei Normanni, Ceglie Messapica e Mesagne. Poco più di 2.000 euro per i vicesindaci e qualche centinaia di euro in meno per gli assessori. Quasi raddoppiato anche lo stipendio dei primi cittadini di Torchiarolo, Sandonaci, Cellino San Marco, San Pancrazio Salentino, San Michele Salentino, Erche e Villa Castelli, che passano da 2.500 euro mensili a 4.000. Tutti i compensi dunque sono aumentati di diverse migliaia di euro. La cosa pubblica certamente comporta diverse responsabilità, in quanto amministrare un comune, soprattutto se tra i più grossi non è affatto semplice, ma i politici possono tirare un sospiro di sollievo a fine mesa.